Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata divisa per così dire in tre parti, in tre tronconi, perché varie sono le sollecitazioni che ci pervengono, gli argomenti, le problematiche che vengono sottoposte alla nostra attenzione. Allora partiremo con la giornata europea degli odontotecnici, non è solo la celebrazione di questa giornata, ma la considerazione e l'analisi di tutte le problematiche inerenti alla categoria degli odontotecnici. Gli aspetti normativi basti considerare che si è ancorati al reggio decreto, quindi una normativa preistorica, obsoleta, e poi il discorso relativo alla innovazione, all'evoluzione tecnologica, il rapporto tra odontotecnici ed odontoiatri, ma lo scopriremo dalla viva voce degli odontotecnici, di questa categoria che è protagonista appunto nel primo giugno, giornata europea degli odontotecnici. Una seconda parte in cui vogliamo poi celebrare un evento musicale organizzato dall'UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, e poi la parte ovviamente politica, politico-amministrativa, si vota in numerosi comuni, in alcuni comuni della provincia Ioni, che allora abbiamo voluto confrontarci con candidati sindaco, con candidati al Consiglio Comunale, nelle realtà di Pulsano e di Monte Iassi. Ma ora iniziamo con la giornata europea degli odontotecnici, una iniziativa che si celebra il primo giugno, grazie all'apporto e al sostegno forte di Confartigianato odontotecnici, che appunto ha realizzato questa iniziativa all'interno dell'iniziativa più ampia della Federazione Europea, e vediamo e ascoltiamo questo video. L'odontotecnico è il soggetto abilitato per legge alla fabbricazione di protesi dentarie e manufatti ortodontici su misura, in base alle impronte fornite dall'odontoiatra, e non gli è consentito operare nella bocca del paziente. Le impronte, rilevate in maniera tradizionale o digitale, devono essere accompagnate da una prescrizione del dentista che descriva le caratteristiche della protesi da realizzare, il materiale da impiegare e tutte le informazioni di progettazione necessarie alla realizzazione del manufatto. L'evoluzione delle tecnologie di produzione impone all'odontotecnico un aggiornamento costante delle proprie conoscenze per poter realizzare manufatti protesici sempre più in linea con l'ideale estetico del paziente e nel totale rispetto della sua salute. Per esercitare la professione di odontotecnico è necessario completare un percorso di studi di 5 anni e conseguire il diploma di maturità presso un istituto professionale di indirizzo Servizi Sociosanitari, nell'articolazione Arti Ausiliari delle Professioni Sanitarie, odontotecnico. È inoltre indispensabile sostenere un esame per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività sia come dipendente che come titolare di un laboratorio odontotecnico. Durante il percorso scolastico viene posta particolare attenzione a discipline scientifiche come l'anatomia, la chimica e la fisica, oltre alle materie tecniche specifiche del settore quali ad esempio rappresentazione e modellazione odontotecnica la cui complessità richiede diverse ore di lezione in laboratorio. Il diploma inoltre deve essere registrato presso l'asli di competenza e l'odontotecnico è tenuto all'iscrizione nel registro dei fabbricanti del Ministero della Salute. Sono Gennaro Mordenti, Presidente Nazionale degli Odontotecnici di Confartigianato. La nostra confederazione aderisce alla giornata europea dell'odontotecnico organizzata dalla Federazione Europea, di cui siamo soci fondatori e aderenti. Il tutto per sensibilizzare il paziente odontoiatrico sulla peculiarità della nostra professione rispetto alla funzionalità all'estetica del prodotto e sul ruolo dell'odontotecnico. Vogliamo approfittare di questa giornata per esprimere il disagio della nostra categoria regolamentata tuttora da un regio decreto del 1928. Tale normativa non garantisce la titolarità della produzione dei dispositivi medici su misura agli odontotecnici. Questa situazione inoltre ha sviluppato la concorrenza dell'industria, che comporta una contrazione dei costi e dei prezzi delle protesi, spesso a scapito della qualità. Oltretutto le industrie hanno sviluppato le tecnologie che hanno portato a spedire i file in tutto il mondo, grazie alle impronte ottiche e agli scanner, senza però garantire all'utente finale paziente la certezza dei materiali usati. Quindi solo noi odontotecnici, avendo la titolarità della produzione, possiamo certificare dove viene prodotto, come viene prodotto e quali materiali vengono usati. Confartigianato odontotecnici è orgogliosa di aver ottenuto una risposta dalla Commissione europea che ha evidenziato come chiunque produca dispositivi medici su misura con tecnologia CAD-CAM debba tenersi al regolamento europeo. La scommessa di Confartigianato è di creare degli imprenditori odontotecnici che non giochino al ribasso dei prezzi dei loro manufatti, ma che realizzino dei dispositivi medici su misura ad alta tecnologia e abbiano un ruolo importante nel campo dell'odontoiatria. Noi di Confartigianato odontotecnici crediamo che la formula vincente sia lavorare con i colleghi e non contro, e ai dentisti non chiediamo di amarci ma di rispettarci. Gennaro Mordenti, Presidente nazionale degli odontotecnici, questa giornata europea degli odontotecnici che si celebra appunto sotto legida di Confartigianato odontotecnici il primo giugno. Il significato di questo evento? Il significato di questo evento, faccio una premessa, noi come Confartigianato odontotecnici siamo presenti nella federazione europea e siamo anche fondatori oltre che aderenti. Chiaramente abbiamo voluto insieme alle altre federazioni degli altri paesi europei creare questa giornata per vedere, far capire soprattutto le peculiarità della nostra professione a livello sia europeo e in particolare nel nostro nazionale. Quindi questo ci ha portato a organizzare questa giornata per far capire sicuramente che la nostra professione, come dire, siamo dei reggi odontotecnici perché ancora veniamo regolamentati da un reggio decreto, quindi viva Mussolini e viva il Re. Detto questo, allo stato attuale la professione è andata avanti, le tecnologie ci hanno portato tante novità, sicuramente lavoriamo meglio, lavoriamo meno, facciamo meno gesso, lavoriamo meno analogicamente, lavoriamo più col computer, però questo ci ha portato a una compressione della categoria, quindi è una riduzione totale, siamo passati dai 23 mila nazionali, io parlo, dai 23 mila del 2012 ai 12 mila laboratori esistenti attualmente in Italia, quindi c'è stato un calo, non dico del 50%, ma quasi. Perché questo? Perché la professione non si è adeguata, noi allo stato attuale ancora dipendiamo da altre categorie per poter lavorare, quindi poi abbiamo tante diversità di odontotecnici, nel senso che ognuno si è creato il suo spazio professionale per cercare di lavorare, io penso che sia arrivato il momento di far conoscere anche all'opinione pubblica la nostra professione, far capire che anche se al mondo per parecchi veniamo chiamati dottori, noi non siamo dottori, siamo odontotecnici e cerchiamo di fare il nostro. L'attività degli odontotecnici all'interno di Confartigianato? Allora, Confartigianato nazionale conta 700 mila iscritti, di cui 5 mila quasi odontotecnici, e per questo sentiamo forte la tutela che diamo soprattutto all'utente finale, noi ci teniamo che il prodotto che viene dato sia soprattutto conforme in modo che il paziente sappia, ecco perché noi chiediamo ai pazienti finali di chiedere all'odontotecnici la conformità, perché così possono sapere come è stato prodotto, dove è stato prodotto e quali materiali sono stati usati. E questa giornata poi, noi di Confartigianato fortemente vogliamo che la titolarità del nostro lavoro, cioè noi dobbiamo essere gli unici titolati, visto tutte le procedure che facciamo per essere ammessi al Ministro della Salute, ai fabbricanti, al Registro dei Fabbricanti, alla Federazione Europea, di essere gli unici titolati a produrre questi dispositivi. Abbiamo voluto realizzare delle interviste in città, a Taranto, nello specifico in via Liguria, per cercare di capire, di comprendere come il cittadino, l'utente, il paziente si rapporta rispetto agli apparati protesici che gli vengono appunto, vengono apportati. In buona sostanza, una qualsiasi protesi che gli viene messa in bocca, su questa protesi il cittadino è informato, non è informato, sa qual è il materiale e vediamo le risposte. Lei quando va dal suo dontoiatra, sa il materiale delle protesi che appunto le vengono apportate? Assolutamente no. Il materiale, diciamolo volgarmente, della protesi del dente che le viene messo, lei non lo conosce. E' illogico, sappiamo. Perché? No, no, stiamo cercando di comprendere la conoscenza dei cittadini circa il materiale che... Io non lo so, io non lo so comunque. Assolutamente no. L'ha mai chiesta? No. Lei? Ci fidiamo del nostro dentista, insomma. Ma non approfondisce circa il materiale. Ci fidiamo come ci fidiamo col notaio, insomma. È un legale, no? E lui per noi è un legale. Io l'ho fatto da poco, per cui... Può dire, può dire. Un mesetto fa, circa, non ho chiesto nessuna informazione. Mi hanno devitalizzato il dente e poi mi hanno messo un supportino, non so di quale materiale, più la ricostruzione. A questa sua domanda non le so dare una precisa... Non ha mai chiesto il tipo di materiale. Una precisa risposta in quanto, sproveduto di questa cosa, di questa informazione. Lei si fida e basta? Si fide ciecamente, aggiungiamo pure. Mi sono fidato ciecamente e ho messo ciò che ho messo, anche avendo con il tempo venuta conoscenza di aver subito una fregatura. Lei? Io non ho mai chiesto la provenienza e la qualità del prodotto, in quanto il mio dentista è di fiducia, mi fidavo di lui, perché professionalmente penso e credo e confermo che è una persona molto preparata. Non faccio nome. Antonio Di Boncondo, anche se avessi saputo di che materiale mi metteva, non avrei mai potuto giudicare la qualità, perché non sono di tutt'altra competenza, ma non di quella odontoiatrica. No. E l'ha mai chiesti? Sì, se sono roba metallica, sì, perché in caso di una risonanza magnetica... Sì, ma intendevo proprio la qualità, consideriamo una protesi, per esempio, il materiale, lei non si è mai approfondito più di tanto? So che ci stanno quelle sintetiche e quelle in porcellana, che c'è una differenza di prezzo. La vite che va dentro... Diciamo che però si fida più che altro, cioè si rifà quello che il professionista le mette. Certo, anche perché non è che posso andare a fare l'analisi del pezzo per vedere di che materiale è. Se mi dice che è ceramico, presuppongo che sia ceramico. Se poi mi ha imbrogliato, lo saprò dopo un po' di anni, quando si romperà. Mordenti, emerge un cittadino, un utente, per così dire, passivo, nel senso che si accontenta, non pone domande sui materiali, si fida del professionista e basta. Dice io vado dall'odontoiatra, l'odontoiatra mi mette questo apparecchio, questo apparato protesico e mi va bene così. Certo, ecco perché l'informazione, noi stiamo lavorando anche con i consumatori, con l'associazione dei consumatori, per far capire che il diritto di un consumatore è proprio questo. Ecco perché la tutela, i nuovi regolamenti europei porteranno proprio a questo, alla tutela della salute dei pazienti. E il paziente, anche se è a piena fiducia, ed è giusto che sia così, del professionista, però deve sapere che deve avere una conformità, come succede per tutti gli altri dispositivi. Faccio un esempio su tutti gli occhiali, nel momento in cui lei va a prendere un occhiale delle lenti, la conformità garantisce il prodotto dove, come è stato prodotto. Quindi ti dà una garanzia e una tutela maggiore. Ci spostiamo ora da un altro odonto tecnico, precisamente siamo allo studio M3 a Lizzano di Emanuele Majorano. Buonasera Majorano, grazie per aver accolto il nostro invito, la nostra, chiamiamola, indagine, inchiesta giornalista. Intanto parliamo un po' di lei, presentiamoci, come è nata la sua passione, che vuol dire professione, perché una professione senza passione è un'estate senza sole, dico io. Allora, da quanti anni svolge questa attività, come è nata e come si è evoluta la sua attività professionale? La mia attività, o meglio la nostra attività, perché c'è anche un socio, praticamente insieme a me, da ben 28 anni ormai, che siamo qui sul territorio a Lizzano, come laboratorio odonto tecnico. Dicevi bene prima, se non ci fosse la passione, non si dura a lungo e soprattutto non si riesce a fare un lavoro che richiede tanto sacrificio, cura, attenzione, innovazione, praticamente. Quindi credo che affinché ci sia questo, come componente base, fondamentale, ci deve essere proprio la passione. La passione che poi deve essere anche alimentata nel corso degli anni, questo è normale, voglio dire. Voi svolgete un'attività importantissima, perché poi c'è l'attività ovviamente dell'odontoiatra, però l'attività, lo dico a tecnicamente, meccanica, tra virgolette, è vostra. Il campo dentista, no? Detto in parole povere, se i denti non combaciano, dipende tutto da voi. Il campo tecnico, cioè da chi va a realizzare praticamente la protesi, il manufatto protesico. Che è praticamente il lavoro finale, fatto in simbiosi, praticamente, se possiamo usare questo termine, tra il professionista, l'odontoiatra, praticamente, e il tecnico. Quindi la realizzazione del manufatto affinché vada bene è tutta responsabilità nella parte proprio di realizzazione e progettazione in buona parte dell'odonto tecnico. Cerchiamo di capire quali sono le difficoltà della vostra categoria, difficoltà che derivano anche evidentemente da una normazione, da una serie di norme che risale ai tempi che furono. Perché pensare oggi, nel 2018, si parla di Terza Repubblica, Quarta Repubblica, non si sa più, e in questi giorni non ne parliamo. E poi pensare che la normativa vostra è ancorata ad un reggio decreto... ...1928. Mi sembra un po' strana questa situazione. Forse è l'unica situazione ancora del genere che abbiamo praticamente qui, che regola queste categorie come noi siamo degli artigiani, né più né meno. Ci sta anche bene essere degli artigiani, noi non rivendichiamo qualcosa che non sia questo. Però, ecco, essere sotto una normativa del 1928, quindi di acqua sotto i ponti, ne è passata nella società, io credo che sia un vero e proprio controsenso. Ecco, quali sono i limiti di questa normativa? I limiti di questa normativa sono quelli praticamente che ci mettono dei vincoli nella... Come dire, noi non conosciamo il paziente, ci arriva l'impronta, sviluppiamo l'impronta, adesso anche con le leggi sulla privacy, in teoria non sappiamo se è un uomo o se è una donna, lo possiamo intuire dalla conformazione del calcio. Sembra che oramai con questa, io dico, fissazione della privacy, ormai finiremo per spersonalizzarci, avremo degli alieni, proprio degli alieni. Quindi noi facciamo fede a dei parametri che ci vengono inviati dallo studio, che ci commissiona il lavoro, e su quei parametri andiamo a realizzare una protesi. Non dobbiamo sapere se è un uomo, se è una donna, se è un ragazzo, niente. Quando invece servirebbe? Quando servirebbe, visto che si fa... Con formazione. Certo, visto che poi, con le nuove normative, si parla di dispositivo medico su misura, cioè la protesi è un dispositivo medico su misura. Su misura, ok, ma voglio dire, interfacciarsi con lo studio dentistico e quindi poter andare in uno studio e fare delle semplici operazioni, che possono essere quelle di rilevamento del colore, di una prova della struttura, cioè che non siano operazioni cruente fatte in bocca, che non competono a noi, ma bensì all'odontoriana. Beh, credo che oggi è arrivato il momento di rivendicarle queste cose. Quindi una sia auspica... Senza essere tacciati di abusivismo, perché c'è una caccia alle streghe da questo punto di vista. Non sembra che tutti gli odontotecnici debbano essere praticamente dei delinguenti. Quindi auspicate in una nuova normativa, in una auspicata normativa, la possibilità di potervi interfacciare col paziente. Certo, certo. Ma questo soprattutto per poter dare sempre un lavoro quanto più qualificato proprio allo sufrittore finale che poi è il paziente. Non dimentichiamo che in questi ultimi anni sul mercato sono arrivate praticamente delle situazioni, delle nuove realtà che sono praticamente, da un punto di vista proprio tecnologico, oggi io posso realizzare un lavoro protesico con dei file, praticamente, mandarli in strutture che si possono anche trovare dall'altro capo del mondo e mi può tornare in studio un lavoro protesico dove io non so che materiali hanno usato, non so niente. Io, stando qui a Lizzano, sono invece sottoposto a tanti vincoli, che vincoli non nel senso negativo del termine, ma a delle leggi, a delle regolamenti. Io devo essere il mandatario del mio lavoro, cioè io lo produco, io lo vado a certificare e lo do allo studio, che di conseguenza poi lo mette al paziente. Soffermiamoci ora sul rapporto tra odontoiatra e odontotecnico. Chiaramente lei ha fatto riferimento prima al fenomeno dell'abusivismo, purtroppo molte volte ci sono gli abusivi, però ovviamente non si deve fare di tutto un erbo e un fascio e non si deve generalizzare, altrimenti ovviamente si reca un danno alla categoria, perché sì, il male c'è, ma non per questo tutti sono marci, ci mancherebbe. Sì, appunto, noi vogliamo essere gli odontotecnici, cioè quelli che fanno la protesi. Si chiede soltanto di avere, diciamo, una, come dire, un relazionarsi in maniera migliore con lo studio. Tutto qui, ecco, non è più e nemmeno. Ovviamente noi siamo soggetti a delle leggi europee, la 93-42 praticamente, e i suoi aggiornamenti, che mettono appunto dei paletti, proprio da questo punto di vista. Quindi siamo soggetti a una certificazione, a una rintracciabilità, a un protocollo produttivo praticamente, che noi rispettiamo. Però quando ti arriva un lavoro dai paesi dell'estero, o da altro, li rispettano? Alziamo le mani. Quindi siamo, non è una lotta di mercato alla pari, no? Assolutamente, non è questo. E adesso la crisi c'è, si sente, perché essendoci una crisi generale, il paziente pur di risparmiare, non chiede al dottore di risparmiare. Il dottore di conseguenza chiede di risparmiare al laboratorio odontotecnico. Il laboratorio odontotecnico, pur di non perdere il lavoro, è soggetto ad abbassare magari i prezzi, quello che sia, o nella peggiore delle cose, se questo non avviene, il medico cambia il laboratorio. Ma rientra anche nella normalità delle cose, voglio dire, di un'economia di mercato, no? Lei ha iniziato la sua attività 28 anni fa. Indubbiamente c'è stata una grandissima evoluzione, proprio tecnologica, un perfezionamento. E pensavo, questo perfezionamento, che però trova, che cozza, come dire, con queste normative obsolete. È un discorso quasi di discronia, proprio. Sì, 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 ripeto, siamo sotto una legge, un reggio decreto del 1928. Ci troviamo nel 2018, sono 90 anni e possiamo ben immaginare quali sono le difficoltà che questo comporta. Il nostro lavoro è cambiato in 28 anni, è cambiato tantissimo. Adesso c'è l'avvento della tecnologia card cam, quindi voglio dire, tutto digitale, tutto cosa, che ha sicuramente i suoi vantaggi, però questo comporta anche altre situazioni che spesso, potendo lavorare con dei file, questo succede che io posso anche commissionare un lavoro in paesi lontanissimi, che non sono praticamente soggetti alle nostre leggi. Quindi con lavori materiali, soprattutto materiali non certificati. Il nostro scopo e il nostro desiderio è quello appunto di tutelare il paziente. Cioè il paziente deve avere un lavoro protesico certificato, a norma praticamente. Siamo in conclusione, altre realtà che lei auspica? Beh, finalmente che questo appunto reggio decreto, mi ripeto, venga superato. E possiamo essere normati come... Sarete sicuramente confrontati per questa battaglia con i vertici nazionali, no? Certo, ma con il nostro presidente della FINAO, della Federazione Nazionale Odontotecnici, sono battaglie fatte ormai da decenni. Tante volte sembrava di essere arrivati al punto finale, poi magari come i gamberi, no? Stop and go, questo... Si faceva un passo avanti e poi di colpo, quando pensavamo di aver raggiunto un obiettivo, un traguardo, in realtà abbiamo fatto due passi indietro. Questo dispiace perché, ripeto, in tutta questa situazione, secondo il mio modo di vedere, chi ci rimette è il paziente poi, fondamentalmente il paziente. Bene, allora, ringraziamo l'amico Maiorano per questa chiacchierata. Ora ci confronteremo con altri suoi colleghi, proprio perché io dico l'Unione fa la forza e voi siete operate in questo settore delicatissimo e quindi è opportuno anche che, ripeto, ci sia un'evoluzione non solo tecnologica, ma anche normativa. L'auspicio, ovviamente, è per i nostri legislatori, chissà quali saranno in questi momenti particolari. Sicuramente in questo contesto storico avranno magari altre problematiche. Però, però, ecco, io dico, mettiamolo in cantiere. Le varie, quelle che saranno le commissioni parlamentari, la commissione sanità, in commissione sanità, quando ci sarà un governo, questi aspetti vanno considerati e soprattutto, mi permetto di dire, dovete essere voi ad essere ascoltati per prima o per primi, perché ovviamente la situazione passa da voi. Un legislatore sarebbe avulso, esterno, no? Se non si confrontasse con voi che siete immersi nella situazione. Il legislatore sicuramente è avulso un po' da questa situazione, però dovrebbe anche prestare attenzione alle richieste della nostra categoria. Da questo punto di vista non sempre è stato così. Mi riferisco proprio anche a tante battaglie fatte anche negli anni, nei decenni passati, perché parliamo ormai di decenni, voglio dire, non più... Questa, padre, non ci credeva affatto. Tiziano, questa cosa non si può fare proprio. Ci sono voluti anni di prove, esperimenti litigi. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, sì! Pizza Burger Ricci. Un hamburger di carne di altissima qualità, racchiuso da un impasto che vanta una tradizione di tre generazioni. Tutto quello che hai sempre desiderato, in un solo piatto. Ho al mio fianco Andrea Petti, che è titolare appunto di un laboratorio odontotecnico. E allora, iniziamo a parlare. Il problema dei problemi della vostra categoria. È una categoria, diciamo, nata tantissimi anni fa. Addirittura abbiamo un decreto reggio del 1928 e da allora ancora non abbiamo avuto, diciamo, un profilo che ci dica con precisione qual è il nostro compito, perlomeno attuale, perché chiaramente le situazioni sono cambiate, il nostro lavoro è anche evoluto, e quindi abbiamo una serie di competenze che forse prima non c'erano. E anche, se vogliamo, facendo un po' di chiarezza nel nostro settore, io prima di tutti mi metto in discussione, perché cercare perlomeno di avere l'onestà di voler fare il proprio lavoro in maniera garbata, senza nessuna necessità di dover prevaricare o ostacolare oppure sostituire qualche altro soggetto della nostra catena. Ecco, intanto la necessità di una, come dire, unità all'interno della categoria. Solo l'unità, l'unione fa la forza, perché i vari spacchettamenti altro non fanno che crearvi danno. E creare danno all'odonto tecnico significa anche creare danno al paziente, perché poi il terminale, il destinatario finale è il paziente. Questo è uno dei tanti problemi. C'è stato anche nel tempo varie associazioni di categorie. Io stesso ho sempre fatto volontariato per una di queste e l'ho fatto con piacere, perché ho dato il mio piccolo contributo. Però, allo stesso tempo, se ci fosse stata l'unità di tutte le associazioni, se fosse stato possibile, forse l'obiettivo si sarebbe raggiunto anche prima. Comunque, adesso la situazione attuale, diciamo, vede alle porte un cambiamento strutturale del nostro lavoro. Quindi adesso c'è sicuramente voglia di sistemare. Posso dire, nella mia categoria, visto che ho un po' di esperienza, abbiamo tanti gruppi. Voglio dire, c'è l'odonto tecnico, che normalmente dovrebbe essere la persona che fa la protesi e deve rimanere in laboratorio. E io su questo sono convinto e chi mi conosce sa come la penso. Cioè, nel senso che noi costruiamo un dispositivo protesico che va chiaramente poi finalizzato e completato, diciamo, nei momenti in cui lo consegniamo all'odontoiatra, al dentista, al medico. Chiaramente noi a questo dispositivo lo costruiamo, con le moderne tecnologie o anche manualmente, e rilasciamo una dichiarazione di conformità. Per cui noi siamo i fabbricanti di quel dispositivo. E fin qui ci siamo. Possiamo, al limite, anche, diciamo, sotto richiesta, cercare di dare un contributo in più, magari su un colore particolarmente difficile. Però adesso dobbiamo effettivamente capire che con il nuovo, diciamo, con questa industria 4.0 noi possiamo addirittura lavorare a distanza dal paziente, ma dare anche una certa qualità. Perché abbiamo degli strumenti molto precisi che ci aiutano. Ecco, quindi un tema che possiamo affrontare, che dobbiamo approfondire, è quella della evoluzione del manufatto protesico. Sì, adesso chiaramente abbiamo tanti materiali, che prima forse non c'erano. Quindi, voglio dire, ci sono dei materiali che noi siamo, il laboratorio di vecchia generazione, anche quello moderno, può realizzare sempre con i vecchi sistemi, con la fonditrice, con altri prodotti, con i forni. E poi ci sono dei materiali nuovi, altamente estetici, che se non si ha una parte, diciamo, molto moderna nella propria attrezzatura, non si può realizzare. Quindi occorrono dei fresatori molto costosi, particolari, per poter utilizzare e poter impiegare dei materiali, come la zirconia o altro, che sono molto duri e per cui impossibili da lavorare se non ci sono questi strumenti. In virtù proprio di questo, io credo che adesso è il momento proprio di cercare anche di trovare un punto di riferimento sempre per migliorare il nostro lavoro e anche per dare una migliore qualità anche al paziente, proprio in virtù di questa parte industriale che sembrerebbe utile per il nostro settore. Quindi il discorso della digitalizzazione, perché vedete molto spesso l'evoluzione tecnologica, sì è importante, però poi questa evoluzione tecnologica, questa digitalizzazione, in effetti, come dire, passatemi l'espressione, spersonifica il rapporto, cioè viene meno il rapporto diretto tra odonto tecnico e paziente, che invece è fondamentale. Ripeto, ripeto, si tratta... Su questo è fondamentale, però non è, diciamo, noi non abbiamo un profilo che ci permetta questo. Per cui se c'è un profilo... Questo è anche un alto limite normativo. E questo è importante sottolinearlo. Voglio dire, io dico la mia, io il mio laboratorio l'ho strutturato per dare un prodotto e quindi una protesi, ma non mi metto e ne voglio assolutamente avere per forza il contatto col paziente se mi viene chiesto e posso migliorare il mio prodotto, ok. Ma non posso assolutamente sostenere che se non faccio questo il dentista non è capace, perché non ci sono problemi. Adesso abbiamo una qualità medica altissima, per cui è proprio questo che vorrei cercare, di raggiungere un obiettivo di unità tra la mia categoria di odontotecnici, fatta anche di tanti piccoli gruppetti, e tanti bravi medici che lavorano e anche loro in un momento di economia particolare cercano di raggiungere l'obiettivo con il miglior sforzo e il miglior costo, diciamo. Mi ha preceduto proprio nella domanda relativa dunque al rapporto tra odontoiatra ed odontotecnico. Mi dispiace che spesso, come i colleghi mi dicono, io forse sono fortunato perché non ho avuto grossi problemi, però questo rapporto spesso, così mi viene detto, almeno quando io facevo anche volontariato in un'associazione di categorie, è conflittuale, perché magari ci possono essere delle competenze che certe volte non vengono stabilite bene e quindi praticamente ci possono essere dei problemi. Questi problemi chiaramente ne risente anche il paziente nel momento in cui ci sono. Io oggi credo che questa parte digitale ci sta aiutando, anche se io stesso devo ammettere che ho dovuto fare altri investimenti grossi per poter, diciamo, migliorare e anche garantire il mio prodotto, però ci aiuterà sicuramente nel rapporto che magari qualche volta è stato anche conflittuale con il medico, perché questi strumenti ci danno la possibilità di comunicare a distanza. Comunicare a distanza e visualizzare anche il prodotto a distanza. Quello che voglio però consigliare a tutti è di non esagerare, perché diciamo che l'odonto tecnico è fatta di tante piccole attenzioni e dove esiste l'odonto tecnico, diciamo, di una certa età con una certa anche esperienza. Ora, il nuovo prodotto digitale viene spesso gestito da persone giovanissime con anche un buon livello culturale, ma non hanno un'esperienza manuale precedente, cosa che purtroppo loro non hanno avuto il tempo e adesso ritengono anche non necessario fare. Invece io proprio lì voglio dire, in altri paesi esiste un master di odonto tecnica dove magari si acquisiscono delle qualità, diciamo, tecniche di un certo livello, per cui anche la persona giovanissima per poter sviluppare un prodotto e metterlo in commercio attraverso una catena di controlli, praticamente. E questa è una cosa importante che voglio dire, che la parte digitale se gestita sempre con il titolare di un laboratorio odonto tecnico regolarmente iscritto e quindi registrato nel Ministero della Salute è meglio che non quello sviluppato, sicuramente, è una mia opinione, ma credo che anche molti colleghi sono d'accordo, dalla industria che magari all'interno del proprio staff ha degli ingegneri, ha delle persone qualificate, ma non con la competenza odonto tecnica che sembrerebbe che a loro non è obbligatorio. E questo è un aspetto che io ci terrei un attimino perché quando vi faccio vedere anche la parte digitale che io posseggo, il dente viene strutturato attraverso un software, però se non c'è la competenza, la manualità diciamo dell'esperto in quello, le piccole differenze ci sono e queste piccole differenze, secondo me, fanno anche il benessere sia dell'odontoiatra che a fare a meno ritocchi e anche del paziente che avrà poi il dispositivo protesico. E quindi concludendo il terminale, come detto, è il paziente, ciò che interessa ovviamente è la sicurezza del paziente. Sicuramente il paziente va tutelato, quindi il paziente è tutelato nel momento in cui si affida a dei professionisti medici regolarmente abilitati nel loro lavoro e quando anche l'odontoiatra o il medico o il dentista insomma riconosce nel proprio staff anche il titolare laboratorio odontotecnico che non è solamente una multinazionale o qualunque struttura industriale che può realizzare un prodotto digitale, ma dove c'è il contatto anche con il fabbricante vero e proprio e quindi la manualità dell'esperto odontotecnico che non deve essere persa perché purtroppo se rischiamo nel tempo, se continuiamo a svalutare questa figura, di perdere quella parte manuale che ancora adesso con tutto che abbiamo tante attrezzature nuove, tanti materiali nuovi fa la differenza nell'interno di uno staff odontoiatra. Mentre prima ho visto che avete appunto registrato le immagini delle attrezzature analogiche ora del laboratorio. Ora quello che volevo dire, quello che avete ripreso è l'indispensabile per poter creare un oggetto appunto artigianale e anche professionale di odontotecnico e quindi una protesi. Per poi arrivare adesso alla parte diciamo digitale del nostro lavoro che da un po' di anni ormai è diventata attualissima per cui tutti i laboratori si sono dotati di uno scanner dentale come questo attraverso una scansione diciamo di un modello in gesso che noi produciamo secondo i sempre i soliti metodi attraverso la colatura del gesso otteniamo un file digitale del nostro modello per poi arrivare a fare una modellazione di questo dente che io devo realizzare attraverso uno strumento digitale. Come adesso vi faccio vedere questo è il progetto di questo lavoro io devo realizzare tre denti il 44, il 34 e il 35 io ho già scansionato il mio modello sia la parte superiore l'antagonista scusate sia la parte inferiore dove io devo fare il lavoro e quindi una volta che ho realizzato questa scansione dei modelli in gesso vado alla modellazione. Ora per sintesi la parte modellata io già praticamente già ce l'ho in maniera tale da non perdere tempi la parte appunto modellata sarebbero questi denti che vedete verdi che io posso anche un attimo togliere così vedete il dente sotto che è il dente che prepara il dentista e noi andiamo a realizzare poi il nostro dispositivo protesico. Tutta questa parte diciamo digitale non potrebbe essere possibile se non avessimo uno scanner dentale per cui i nostri laboratori si devono attrezzare e devono fare un certo investimento. Questo prodotto che noi poi otteniamo attraverso questo scanner dentale attraverso questa modellazione digitale lo inviamo poi a una struttura chiaramente certificata in maniera tale che ci possa fare un semilavorato adeguato alle nostre esigenze con dei materiali che altrimenti per noi sarebbe impossibile lavorare per esempio lo zirconio un materiale così duro estetico ma così duro che se non ci fosse un fresatore non si potrebbe lavorare e questo fresatore se un laboratorio non è grosso e non ha un certo numero di lavori non viene ammortizzato nei costi per cui il nostro lavoro rientra sempre ancora nelle piccole imprenditori perché dipende dalle unità nel mio caso per esempio io sono titolare di laboratorio di prodotto tecnico e di conseguenza sono solo non ho dipendenti per cui l'investimento adeguato a me è appunto uno scanner dentale e poi mi affiderò a delle strutture certificate questo rientra in una parte nuova del nostro lavoro chiamata 4.0 io spero di aver dato il minimo giusto per fare le differenze tra analogico e digitale del nostro lavoro e le evoluzioni che abbiamo ottenuto forse ci permetterebbero oggi di richiedere un profilo anche universitario in maniera tale che la nostra professione possa crescere ancora meglio e con i ragazzi ancora più preparati di quelli che magari un istituto superiore può garantirci grazie per per l'opportunità che mi avete dato spero di essere stato utile ci confrontiamo ora con un altro odonto tecnico Carmine Pepe di PLG Dental beh cerchiamo di occuparci di comprendere come vi organizzate appunto come operatori del settore lei mi pare è uno dei soci appunto di una di PLG Presidente a questa società ecco come ci si organizza per essere competitivi sul mercato beh ci organizziamo sicuramente facendo investimenti sulle nuove tecnologie e aggiornandoci costantemente questa diciamo è la chiave del successo credo in ogni settore la tecnologia in questo settore in particolare ha aumentato un po' diciamo ha alzato l'asticella in merito a qualità e precisione nel lavoro ma soprattutto ci consente di abbreviare notevolmente i tempi di consegna e che diciamo soddisfiano le richieste degli studi medici che ci commissionano i lavori i rapporti con gli odontoiatri anche alla luce di queste innovazioni tecnologiche sta cambiando notevolmente il tipo di comunicazione con gli studi nel senso che adesso la tecnologia ci permette di avere una diciamo una nuova sistematica che ci ci dà la possibilità di non commettere più errori nel senso che ad esempio le impronte quasi del tutto scomparse perché vengono fatte delle scansioni in bocca e quindi ci viene inviato un file insomma è cambiato completamente il discorso rispetto a qualche anno fa forse negli ultimi 5-6 anni c'è stata questa evoluzione devo dire proprio una rivoluzione copernicana rispetto al passato sì 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 qualche anno in più sinceramente diciamo che da 4-5 anni parliamo in bassa scala di questi sistemi però sono più o meno una decina d'anni che il discorso è cambiato notevolmente nel nostro settore le difficoltà e le prospettive cosa auspicate? difficoltà ci sono sempre cambiano quali? andiamo a identificarle è un discorso abbastanza lungo noi abbiamo cambiato radicalmente il modo di lavorare con l'avvento di queste tecnologie quindi se prima avevamo un certo tipo di difficoltà adesso noi abbiamo altre quelle attuali sono nella gestione dei file di insomma interpretare e progettare al computer non più a mano quello che è il progetto che ci è indicato dal medico i nostri auspici sono quelli di migliorare sempre la qualità e anche la tempistica ovviamente sempre a beneficio del fruitore finale che è il paziente che è il progetto